Ciao a tutti ragazzi da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale dei Piloti e benvenuti alla 997-3 Dunque anche questa sera qualcosina di cui discutere ce l'abbiamo Tra l'altro mi fa molto piacere che abbiate apprezzato la puntata che parla della partenza anticipata di Verstappen Tra l'altro quando mi scrivete c'è modo di farlo avere alla FIA ma la FIA lo sa benissimo che è avvenuta questa cosa qui Lo sanno e lo strasanno e oltretutto non servirebbe a nulla perché ormai la gara c'è stata La penalizzazione non l'hanno data, i team non faranno nulla perché comunque Sergio Perez non ha guadagnato La posizione sul campo perché l'eclera alla fine l'ha tenuto dietro però comunque niente ne abbiamo parlato Giusto per parlarne ma non si otterrà ovviamente nulla però mi fa piacere che vi sia piaciuta questa puntata Che abbiamo fatto oggi la 996 comunque adesso mettiamo la sigla e poi partiamo con le novità di questa sera Sigla Bene partiamo subito con la puntata e iniziamo da una cosa Che secondo me non vi piacerà tanto Allora riguarda New Way per carità non c'è nulla a livello di novità che riguardano il suo futuro Non ha detto no alla Ferrari se per questo non gli ha detto manco sì La Ferrari gli sta dietro come sta dietro non solo a lui questo è inutile Non potete negarlo ma lo sanno anche i muri in Formula 1 e non solo Però sicuramente avrete già saputo che New Way non sarà in Australia E allora è ovvio che con una notizia del genere tutti si inizi a sperare Ah magari è cambiato qualcosa magari già sono in rottura assolutamente no Perché già era prevista questa sua assenza nel Gran Premio d'Australia Poi dovrebbe tornare in Giappone quando in teoria ci dovrebbero essere anche i primi aggiornamenti Non solo per la Red Bull ci saranno anche altre squadre che porteranno gli aggiornamenti Però Red Bull porterà gli aggiornamenti dovrebbe esserci colui che li ha concepiti La cattiva notizia però non è questa ma bensì da quello che sono le informazioni che io ho Per carità potrebbero essere sbagliate Il discorso che si dice del fatto che Adesso vi faccio arrivare al perché di questa cosa no Del fatto che Horner vorrebbe relegarlo al progetto Hypercar e basta l'RB17 Per risparmiare sul discorso Budget Cup Formula 1 Ecco questa cosa qui a me non risulta per niente Cioè se ci sono dissapori tra i due di sicuro non è per questo motivo E poi vi voglio far riflettere sul discorso che questa storia non può essere vera Per quale motivo? Semplice perché a livello di regolamento Sì è vero è cambiato cambierà dal 2026 in poi il fatto che se tu hai un dipendente Che si occupa il 10% di Formula 1 e il 90% di un altro progetto tipo l'Hypercar Alla fine dal 2026 il 100% del suo compenso verrà calcolato nel Budget Cup Ma dall'altro lato ragazzi è anche vero che i tre top manager in Formula 1 Per ogni squadra non vanno a intaccare quello che è il Budget Cup E New Way potrebbe benissimo rientrare in questi tre top manager Uno è il Team Principal in tutte le squadre E il Team Principal perché il Team Principal è una delle figure che prende più soldi in Formula 1 Poi ci sono il direttore tecnico, l'Adrian New Way della situazione eccetera eccetera Ora io non so se esattamente oggi in Red Bull è così Anche perché Adrian New Way quasi quasi non conviene metterlo come Visto che lui si occupa anche di altre cose Magari lo dichiari al 10% in Formula 1 E poi per gli altri lavori la rimanente parte, il 90% Non risulta nella voce Budget Cup a oggi Però per il futuro potrebbe benissimo rientrare tra i tre top manager In ogni caso da quello che sono le mie fonti Non risulta affatto che Horner vuole relegarlo solo alla progettazione dell'Hypercar RB17 Quindi e niente questa è la notizia che secondo me non vi piacerà Come non è piaciuta a me però quello è e quindi ce lo dobbiamo tenere Questo non vuol dire nulla perché ripeto non c'entra con non abbiamo detto che ha detto no Ha detto sì, non c'è nessunissima novità da questo punto di vista Però in ogni caso questa voce che girava a me ripeto non risulta tutto qua Andiamo avanti perché oggi giornata di allenamento per la Red Bull E qui volevo fare una considerazione No scusate ho detto per la Red Bull La testa ce l'ho là Ce l'abbiamo tutti al monoposto di riferimento Per la McLaren a Imola A Imola con quale vettura? Quella di due anni fa Come da regolamento Con che gomme? Quelle demo che oramai tutti i team conoscono benissimo Come da regolamento Che ha girato il qui inquadrato Oscar Piastri Anzi fotografato Oscar Piastri Domani toccherà a Norris Su una pista molto molto impegnativa come quella di Imola E beh mi veniva da pensare una cosa no? Oggi in Ferrari ad esempio Berman ha girato con l'F1 75 Una Goduria da guidare Domani toccherà a Giovinazzi con la stessa vettura Però ve l'immaginate l'anno prossimo L'anno prossimo praticamente gli toccherà girare con la SF23 Cioè si dimenticano come si guida Perché non è una bella cosa Quanto meno in casa Ferrari Girare con quel tipo di vettura Io fossi in Masser Girerei, continuerei a girare E a far girare i piloti ovviamente Con la F1 75 Perché non deve essere proprio piacevole guidare una monoposto Anche se ora stiamo scherzando Sul finale di stagione era molto più prevedibile Comunque una monoposto Che è stata veramente molto capricciosa A livello di rendimento Di setup, di reazione Al vento laterale, al cordolo Al dossetto, a tutte queste cose qua Tutto qui Poi l'altro giorno stavamo facendo un ragionamento Anzi una considerazione Come il calendario del motosport in generale A volte si è fatto veramente male Perché? Perché nessuno parla Tra le varie categorie Tra di loro Perché ci ritroviamo Dei weekend dove c'è la MotoGP C'è la Formula Indy C'è la Formula 1 E dei weekend dove Questo che sta per venire Dove c'è poco o niente Ci sarà, se volete seguirla La Formula E Gara in Brasile Ovviamente in un cittadino Anche se le ultime generazioni Di Formula E possono benissimo Corrono tra l'altro In circuiti permanenti Possono benissimo correre In circuiti permanenti Comunque Se volete assistere alla gara Per non staccare completamente La spina del motosport Ebbene Si correrà Dicevamo in Brasile E sabato 16 Alle 18 Su Mediaset 20 Ci sarà la possibilità Di assistere alla gara In diretta Quindi Ve la sto segnalando Io Fossi in voi Se non ci avete niente da fare La guarderei Poi Volevo segnalarvi Non l'ho fatto oggi E me ne scuso Con Edoardo Questo video È un canale Questo che vi sto per far vedere Di un ragazzo Lo notate Dal numero degli iscritti Lui è un ragazzino Mi fa un sacco di tenerezza Mi ha chiesto di intervenire In questo video qui Che ha pubblicato Di fatti c'è il logo selezione E l'ho fatto con molto piacere È un ragazzino Che da tanto tempo Era piccolissimo Quando mi ha contattato Fa video Per passione Ovviamente Sul Motorsport Sulla Formula 1 Lui si chiama Edoardo Peli E niente Vi chiedo di dargli una mano Andando Sul suo canale Iscrivendovi Al suo canale Guardando qualche video Ci mette tanta passione Devo dire che è molto cresciuto Da come Non solo Fisicamente Ma Anche nel fare i video Adesso è migliorato tanto Niente Ci tenevo A segnalarvelo Poi Infine In questo video Passiamo ai commenti Abbiamo In pole position Per quel che riguarda La puntata 996 Mattia Russo Poi Marco Nesti User Che non manca mai Andrea Zappalà Gianluca Sanna Giovanni Chiarillo E Antonio Romagnolo Poi i commenti Più di tendenza Che con molto piacere Noto che sono Un tripudio Di complimenti A Simone Chiovaro Il ragazzo Di cui vi ho parlato Oggi Che si è laureato Con 110 E lode Allora abbiamo Carmelo Pafumi Poi Fabio Poi Fabio Roverselli Alberto Ghirotti Francesco Zito E Tony Arcoracci Bene Bene Sono contento Perché tanti commenti Parlano di Simone E fanno i complimenti A Simone Vi ringrazio Per questo Buon Noi ci si vede domani Non ho ancora pubblicato Il sondaggio Ho sbagliato Però ormai Credo che sia passato L'orario buono Lo farò domani E mi raccomando Scrivetemi L'orario Della live Che preferite Per quel che riguarda Questo video È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Condividete il video Sui vostri social Attivate la campanellina E iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Vi mando un bacio Ciao Buonanotte Ci vediamo domani Ciao Ciao